Eder, Mech, Pallister Ah Olm scusami, questa rubrica delle freddure mi piace, la vorrei fare io, permetti? Certo Sherlocky, se pensi di poter avere successo puoi certamente provare a farla, se farà ridere sicuramente te la trasmetteranno Certo che avrà successo, me lo sento, e se me lo sento io che sono un sensitivo è sicuro che è così È sicuro, devo assolutamente avere un'idea per fare ridere la gente e fregare la rubrica Olms Che cosa mi posso inventare? Ah sì, ecco l'idea giusta, preparatevi a vederla, preparatevi a ridere Salve, lei è il famoso cliente interessato alla mia proprietà? Le dico subito che non tratto il prezzo, nemmeno Silvio Berlusconi riuscì ad acquistare questa villa Oh, io sono il celletto, io non tratto, io compro e basta E allora quanto è disposto a offrirmi? Le dico subito che non scenderò nemmeno di un euro Io possiedo mezzo mondo, quindi sai quanto le offrirò? Preparatevi per ridere che qua c'è la battuta Ahem, siccome possedgo mezzo mondo, le offrirò la metà della sua cifra Sherlocki, ma che cosa fai in mezzo al mare? È pericoloso Niente Olms, non hai visto che il pubblico mi ha fischiato E quindi Sherlocki, non mi sembra una buona ragione per cercare di affogare Non ti preoccupare, non corro nessun rischio Il mio programma è stato un fallimento Quindi anche se il mare è agitato non mi succede niente Non vado in onda Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale Edelmetalliser Edelmetalliser